Questo autunno è senza dubbio la stagione in cui parte l'attività di un buon numero di cantieri promossi dall'amministrazione comunale. La prossima settimana è anche la volta dell'arredo dell'area Exagip, un'area che è stata bonificata a lungo dopo aver ospitato un distributore di carburante e per la quale, invece di un parcheggio, è stata effettuata la scelta di un piccolo parco con alberature, panchine e una cavea che dialogheranno per immagine, colori e funzioni con la vicina scuola elementare. Il lato verso via Montegrappa sarà poi delimitato da una pista pedonale e una pista ciclabile che in un secondo momento giungerà fino a via Malagodi, la via della Corridoni. Quello su Viale Gramsci invece sarà delimitato da un filare di tigli e platani. I lavori partono la prossima settimana e termineranno indicativamente per fine aprile. Inizialmente faremo quello che è uno sbancamento di tutto quello che è il terreno, un terreno che è stato bonificato e in questi giorni proprio ci viene restituito per cui è pronto per essere lavorato e dopo un primo sbancamento lavoreremo su tutta quella che è la parte di calcestruzzo nel sottofondo per poi fare una nuova pavimentazione, sottoservizi, illuminazione, un nuovo impianto di fognature bianche, lo spostamento delle attuali caditoie, metteremo a dimora delle cordolature importanti anche per raffigurare quello che è un po' questo tema della piazza che diventa anche un anfiteatro se vogliamo e nello stesso tempo potenzieremo anche tutto il discorso del verde perché ricordiamo i corridoi verdi che appunto saranno di perimetro e anche di abbellimento di quelli che sono questi percorsi pedonali e ciclabili che faranno di questo luogo anche un'area un po' protetta, proprio anche che rispecchia una volontà della scuola indicandoci, proprio dandoci delle indicazioni di spazi dove anche i bambini possono attraversarli in sicurezza. Quando mi sono insediato la sfida che abbiamo lanciato è quella di rendere la città di Fano la più interessante della nostra regione. Penso che siamo sulla strada giusta perché stiamo facendo tanti interventi di valorizzazione, di riqualificazione, non soltanto le aree più centrali ma anche aree che magari destano meno interesse ma sono un biglietto da visita e qui parliamo dell'ex area AGIP che viene bonificata e quindi questa è una bella cosa perché significa che riportiamo alla sua normalità un'area e l'altra è quella della riqualificazione, un'area che è un crocevia, che è di passaggio, è un ingresso della città, è una città che fa attenzione anche a questi particolari, a queste aree vuol dire che è veramente bella, che vuole essere veramente di grande attrazione, di grande interesse. Questa è la scelta che abbiamo fatto e lasciatemi dire, così concludendo, una battuta a tutti quei simpaticoni che dicono che questa è la città dei rendering, la risposta che mi sento di dire è fatti, non rendering. Grazie a tutti.